Sindaco Napoli sold out per questo ponte di Pasqua, c'è da augurarsi che continui questo trend di flussi turistici? Ma ne siamo certi, è iniziata un grande viaggio di boom turistico che arriverà sicuramente fino a settembre perché noi abbiamo il polso delle prenotazioni e delle iniziative che ci saranno a Napoli quindi si va verso il tutto esaurito, primavera, estate, siamo davvero soddisfatti anche per le attestazioni di apprezzamento che fanno i turisti per la nostra città al netto dei problemi e delle sofferenze e dei servizi che devono sempre migliorare però Napoli si mostra davvero bella e con un grande orgoglio partenopeo quindi siamo davvero soddisfatti